Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 in direzione Firenze traffico rallentato per un veicolo in avaria segnalato nel tratto tra Monte Catini Terme e Pistoia. Sulla A12 code a tratti per lavori in direzione Genova tra il Vivio per Viareggio e Versilia. Su raccordo autostradale Siena a Firenze restringimento di carreggiata in corrispondenza dei viadotti Filinelle e Molinuzzo tra Poggi Bonzi e Tavarnelle. Sulla regionale 302 Brisighellese Ravennate senso unico alternato all'altezza del chilometro 27 nel comune di Borgo. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo sulle autostrade e sulle strade a lunga percorrenza. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.